Siamo i locali e ti incecco, io ho il mano di te. Super, 3-0, 3-1, ma che mi sono più risposto, super. Qual è il più grande? Džeko è stato il più grande per me. Bosna è perverso, svegli se. Miske è il più grande, definitivamente. Miske, miske è il džeko. Sve più grande, per la preparazione. Begovine è la più grande, sinceramente. Super, tutti i giovani. Non c'è più grande, tutto il più grande. Sve più grande, tutto più grande. È il più grande, es zero! È lato, 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 lato. Che fannoitate la prima? Che fanno bene l' Silvio? Il Soldier è con una mia un' bambina. Pape, svaka čast. Ludlo, ludlo. Ovo sam chekato, ne znam nema koliko godina, i doživio sam, sve imam na Zapadu, ali ovo nigdi nema ovaj dan. Ovaj dan è più di più di 100 anni nel Zapad. A prevenire da teori e da teori facci e teori facci, I do??? Molto ob č destruction so ne nož alacenMusicDo, a pape, evno č tome, noč kot! Topio jago in cekolo, Io non amo la luce, io non amo la luce